Voi non fatelo, ma qualche giorno fa mi sono chiesto Cosa succederebbe se buttassi MetaQuest 3 giù dalla finestra? Resisterebbe all'urto? Parliamo di un'altezza di circa 3 metri, 3 metri e mezzo Ora, per quanto la qualità costruttiva possa essere buona Suppongo che, cadendo da una certa altezza Senza un minimo di protezione L'impatto al suolo lo danneggerebbe non solo esteriormente Ma allora sono pazzo? Come mai questa idea malsana? E' tutto cominciato qualche giorno fa, quando ho contattato Zyber Un'azienda che produce accessori per MetaQuest Stavo cercando uno zainetto per trasportare il MetaQuest in giro Uno zaino, non una di quelle borse con la maniglia da portare a mano E mi sono imbattuto nel loro prodotto Uno zainetto dalla scocca rigida Uno zaino con porta USB per ricaricare il visore senza estrarlo Ospitando al suo interno un power bank Oppure collegandolo al cavetto interno E' possibile anche ricaricarlo attaccandolo direttamente alla corrente Chiaramente lo zaino può ospitare anche altri visori Non è fatto esclusivamente per MetaQuest 3 Ed è fornito di involucri imbottiti di vario genere Per tenere separati i controller in modo sicuro E metterci all'interno anche altri accessori Insomma, è pieno di tasche Una volta avuto tra le mani mi sono così convinto della qualità di queste imbottiture Che ho pensato, perché no, facciamo un grande esperimento Così, a mio rischio e pericolo, cercheremo di scoprire Se all'interno di uno zaino Zyber Il MetaQuest 3 può sopravvivere a una caduta dalla finestra Ripeto, voi non fatelo Ovviamente chi ha progettato questo zaino non l'ha pensato per questo Ma che gusto c'è a vivere se non si provano un po' di emozioni? Aggiungiamo un po' di pepe Siete curiosi di vedere come sarà il finale di questa storia? Bene, allora... Scopriamolo! 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 Grazie a tutti. Ragazzi, che botta cavolo, l'ha preso proprio storto, speriamo che non si sia rotto niente da davvero. Sembra tutto intero, adesso la proviamo. Vediamo se si accende. Ragazzi, si accende, si accende. E vai, e vai, funziona, è incredibile, non si è fondato. Ragazzi, grande. Zaino Zyber. Link in descrizione. Voi non fatelo.